anche stamattina belli carichi facciamo un po di singoli su libertà musica si musica no buongiorno sembri un maniaco il cappuccio anche senza beh non mi apre sporica ok sembra dell'aprezza sono proprio distrutto ragazzi c'è non c'è alcunché basta ecco un altro con quell'arma di merda lì non promette bene come partito se già mi trovo il lobby la gente col kg dai almeno questo c'è il mp40 quello da corri corri spara spara quasi quasi la tengo sottofondo la musica tanto si sente pure poco non 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 E' un soldato nemico. Va bene, andiamo lì. Me la sento. E' qua? No, tu vai là. 5 gi, va? Va bene, va bene. E' un... Apra a fuoco. E perché mi fa ste cose? Mi è premuto male, ragazzi. Aiuto. Minchia meno male che mi sono accorto del suono. Aveva cambiato la modalità di fuoco. Mi è premuto. Odio sta roba delle scale Comunque Ho un pick advantage troppo grande Però vabbè ci sta Grazie per il like Come andiamo Bellissima grazie Modestamente il lino sonego mi ha contattato Ma ti ho anche preso Cioè io sono morto da questo Cosa qua Grazie per il like Elix C'è un soldato nelico Tutto pronto La zona di guerra vi aspetta Ehi Angelo Buongiorno Come andiamo Quando taglio i capelli Non li taglio i capelli Diventano ancora più lunghi adesso I capelli rimarranno lunghi Un programma di tenerli lunghi Fino Non ho ancora deciso Fino a quando Ma Per l'anno prossimo Qualcosa del genere Cioè voglio proprio che Voglio proprio farli crescere Un bel po' di tempo Tutto bene Tutto bene Angelo E ieri Tra l'altro Ieri 5 sub regalate Elix Ti consiglio di Di controllare che non ti sei arrivata Visto che a te arriva sempre Tutto bene ah bastardo un singolo non so proprio mai dove girarmi su sta mappa veramente sono osceno da guardare un'altra 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 I coglioni Sto morendo sempre nello stesso modo Da un tizio a caso Mentre sto facendo altro Assist uccisione Ma che me ne frega Ma io voglio le mie kill Fa un lodi Un soldato nemico L'auto di equipaggiamento per voi Era fuori Lo sento male Sbagliato Sto cercando di merda Ciao Gianfranco Buongiorno Mi sa che non riesco nemmeno a prendere lodi Perché sta incamperando quello Vabbè Oh guarda Uno qua sotto Uno lì Un bar di merda Figa guardalo Eccolo Il tizio col KG Ragazzi Quell'arma lì è veramente L'arma da Non so giocare Quindi sparo Finché non prendo What? Ma mi ha preso nel piede Da quando crack anche prendendo nel piede Ah c'ho due piazza Vedete C'è che mi sparo adesso Dai mettiamo in posa la musica E si gioca un po' seriamente Uh andiamo su Valoran Troppo dai Vai control A cazzo duro Proprio Oh dammi un'arma Ok Ok No, vedo classe Vedo il Pellington, managgia me Che cazzo sono questi Già armati così? Uno in volo e uno Bastardo Ehi, Gasper, grazie per il like Benvenuto Ehi, Gasper, grazie a tutti Disturbatore nemico Individuato nella vostra area Mi danno tutti la caccia Sti Camper, figa Guardali, porco diga Ma ti pare? Non so, volete anche il mio indirizzo di casa A sto punto Scusa Come fa ad avere l'autoress? Ehm, qui c'è un camper No, ok No, ok Oggi non ce la faccio raga Oggi, oggi squitto sto gioco Oggi lo spingo Quello cos'è? Quello cos'è? E' un camper Ma scusami Ma siete sullo stesso fottutissimo tetto E non vi state sparando Guarda Dio caro Ma ti pare normale? Sto gioco del cazzo Sarai con il mio fratello cinese Sicuro Ma non dito Vediamo Vediamo Buongiorno Bravus Oggi gliela cariamo a tuo fratello Mi ha invitato Eh? Oggi Mò mi ha invitato Miki Vai a giocare Oggi, però No, no Oggi vediamo E se sto con Gigi Loro sono già tre Ah, va bene Invito qua Gigi anche Sì Lo sto invitando Mi rispio Ieri l'ho lasciato solo E ieri tra l'altro Non l'abbiamo più sentito Non ha più parlato No Si vergogna No, lo chiamavamo Non rispondeva Non gli andava più nulla Mi sa Ah, posto Ottimo, vero? Eravamo lì che parlavamo Oh Gigi G6 Gigi E non rispondeva Allora, tu sei live? Sì, sì No, no Buongiorno Scusa No, no Quella Allora No, Gigi Gigi Do cazzo stai? Gigi Come stai? Brambinos Come stai? Io volevo sentire Le parolacce che mi dice Chi Chi ti dice parolacce? No Vediamo se tuo fratello Mi insultava Io volevo sentire Solo le insulte Soltai tuo fratello Perchè hai detto che non vado a gare con lui? Ecco, a saperlo chieri con Gigi Ma non mi capite Avevo scritto Insensibile Allora Devo chiamarlo Ok Ok Chi è che manca poi? Cini? Chi sono? Chi è che manca? Andrea Chi è? Andrea Chi è che manca? Chi è che manca? Chi è che manca? Punto siamo qua Allora Ci sono Ragazzi Buongiorno a tutti Buongiorno Finalmente ti si sente Ieri Poi sei scomparsa Non ci sentivamo Scomparsa E non ti sentivamo più Non mi ero accorto che stavo giocando con il joystick Quello con il ragno vecchio E in pratica Basta appoggiarlo E non si sente più Discollegermelo Siamo noi tre? Allora Siamo noi tre? Sì Yeah All right Allora 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 Non lo dire Ora che hai suonato canta Lo disse l'ape Ah ce n'è uno Aspetta All'automobilista Dietro Adesso che hai suonato Balla Interessante Ho visto adesso Allora Ottimo Vai Buongiorno 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 Perché mi fate male? Buongiorno Cioè veramente mi fai giocare con i due ciliso stamattina Ma potete anche calmarvi invece che pribervi nelle orecchie brutti maleducati Che bello E non lo sento Lo sapevo che gridavano io Porco zio Non lo sento In questo momento sono un uomo più felice del mondo Per favore me lo salutate Ti saluta Ha detto Cinese di salutarti Signor Cinotto Così non ci sente Eh io neanche Come non mi sente? No voglio capire parti Mutatevi e smutatevi Ah ah Voi sempre a fare i danni Cinese Eccolo eccolo Lo senti No aspetta Sì che mi sente adesso Ciao Neon Buongiorno Ciao Cinese Allora andiamo a portare un po' di disagio in quel di Brambo Esatto Grazie Sempre apprezzato Tranquilla ha sbagliato compagnia Sì infatti Allora Andiamo vediamo Sì Questa mattina arma guerra e vargo Sì Ignorando Anche se Sì sì proprio così Senza senso Però Il cecchino sta tornando a essere interessante ragazzi Sì ma se poi me lo molli sul più bello Eh non c'è gusto Eh ma se mi da un'izio bianca A venti metri E ti tirano i coglioni Il cecchino non lo uso più Non sai Io ho sempre continuato a usarlo il cecchino Quale? Eh beh io non capisco un cazzo Lo trovavo una scusa Ma Facevo Facevo car e Swiss E cosa ci fai con l'accetta? È lanciabile Questo è il bello Che cazzo dici Ma è enorme Sì Te ne danno tre Ho visto che ce la avevi in live La puoi lanciare Pensa tu Vado in giro a fare massa Ieri sera poi ho giocato Ho giocato a PUBG Sì Un disastro Sì non è Allora La prima volta era che giocavi ma te A PUBG ieri sera? Sì 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 era la prima volta Non noi giochiamo sai Né un Io pure non ho 4 o 5 volte il giocato 6 o 7 massimo E' un pro player E' un pro player sinista Sì E' un pro player Wow E' io c'ho Sono troppo fatta Tu c'hai perdita Io perdita Sì Vieni qua No si è alzato No si è alzato Quanti cazzo ci sono Aiuto Tocchiamo la polenzia Chiamo Sul tetto Sull'antenna è caccatissimo Toccatemi Toccatemi Vieni a toccarmi Cini Non posso Vabbè Fa niente No già Mi hanno toccato Gli altri Mi hanno toccato Non ci credo Non ci credo Mario Draghi Mi ha toccato Ragazzi Ragazzi Occhio da Ragazzi Occhio che c'è Mario Draghi Mi ha sceso Uno dietro di te Neon Ho preso L'unica arma scarica L'unica arma scarica Ho preso Ce ne sono Due sotto Uno sta entrando Questa Dove munizioni No Ma affatto C'ho la mira Di uno Di un ubriaco Eh Vaffanculo C'è La sua scarica Ma Vabbè Certo Sto sotto Conte Da sotto Piano terra Gigi parla Parla Eh Sì Stavi Vittiro a me Ecco No Io ero morto Mo sono tornato G Amp Arriva Andiamo Stai fare la mano Due Sono quattro Tre Sono Brambo Uno Mi è restato Stato 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 Mi ha la stanzetta Quella piccolina Aiutami la polizia Chiama E c'è un altro C'è un altro Sono due Vieni È ancora nella stanzetta Piccola Mamma mia Bravissima Toglietemi il computer Vi lascio i soldi Fate loadout Veloci Sì Un'arma Un'arma Ma che sono finite le persone No Ma Fanculo Gioco Insensibile Allora Allora Un attimo Mi sento un po' Allora 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 Ripiegate Ripiegate Lo cazzo stanno Là sotto Sì Allora Ti posso capire Non lo so Ma c'è uno qua davanti Davanti al buco Ragazzi Perché non slida Non slida Mamma mia Quanto cazzo sono Sopra Andoli Ti dà la caccia Sopravvi What? Lo cazzo Sopravvi Eh uno era lì Uno è sul tetto grande Sul tetto grande Due nel sottopassaggio Sottopassaggio Sotto grande Eh non c'è nessuno Sono io sopra Cazzo non mi abbassino Venite qua al buco Venite qua al buco Eh ragazzi Uno Io sto là Uno la finita Dove te A terra Confermato? Si è buttato quello Ha trovato c'era All'altro lato Si è trovato cinisa Con il sangue negli occhi Era l'altro cinisa Era uguale Mamma mia Due cinisa Si è trovato due cinisa Con il sangue negli occhi Al prezzo di uno Stamattina che avete avuto C'è uno Sotto sotto le bagni Parte piccola Forse qua dentro la stanza No 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 Scusa Non so che ho visto Brambo non puntualizzare Andiamo avanti Allora Deme un attimo Ragazzi ho bisogno di piastre Qualcuno c'ha le piastre? Si Te le lascio io Neon Saliamo Saliamo Dalle scalette Mi sparano Da dietro Vai Brambo ti copro Va bene Andiamo Ragazzi Una cassa munizioni Apriamola Degendo cazzo L'hai aperta Ah Ragazzi vengo l'altra Vengo l'altra Andiamo Andiamo A terra uno Oh confermo Va bene ragazzi Ci arriveranno da dietro State pronti E uno si è buttato qua Si è buttato giù Si si per quello di più Ci arriveranno da dietro Che contratto Ah ce l'abbiamo Salgono 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 Eh faranno di nuovo La stessa cosa Che abbiamo fatto noi Eccolo Uno da sinistra esce Ma ho fatto Ma dove è andato il mio colpo? No Gigi l'ha seguito Arrivo Buon fatto Eccolo 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 No Anche da sinistra Anche da sinistra Anche da sinistra Anche da sinistra Che casino Guarda questo che camper di merda Va bene va bene audio Che camper Che schifo GG GG Eccolo Che si è andato Tep Tep Teto di chemical Teto di chemical Ho down Libero dunque è stata una morte pesante cos'è stato sono morto arrivo arrivo bella big bro bella big bro sopra ragazzi è tutto ok era la prima eravamo grippati eravamo freddi dai che siamo abbiamo giocato ciao marius buongiorno come si dice allora apparte che a me sta laggando in una maniera incredibile c'è una perdita dati fuori di testa in pure sto laggando porco schifo abbiamo giocato un po' al pulso pesante abbiamo seguito qualunque cosa si muovesse grande brambo si era fatto dieci bombacce così a freddo vabbè lui non è mai freddo c'è mai freddo è un tastierato di merda sono bravo ecco perché scolo bravo a questo tipo io va bene ma se te lo dici da solo si un coglione la stai zitto gli altri ti devono fare complimenti non te li devi fare da solo hai capito non so come stai e che se no ora si muovi muo vedi che da lui la sabb costa dieci euro gli altri cinque non si capisce il perchè ho sentito soldi intanto io eh non ho capito ho sentito 5 euro 10 euro ho detto subito ma che cazzo è quindici da brambo signori quindici cosa si verrebbe per non vedere un brambo in costume da bagno si con uno slippino si quanto volete offrire quanto offrite e io se vuoi ti offro 5 euro il solito taccagno come sempre va bene braccino corto ci accontentiamo dei tuoi insensibili 5 euro va dai brambo esci lì un dito del piede dai 5 euro solo uno? da oggi ragazzi di only brambo solo da only brambo dove sono i miei 5 euro? dai dove stai il dito? l'ho fatto vedere attenzione attenzione è uscito la luce allora l'ha uscito ero presente posso dire che io c'ero hashtag io c'ero ho pure dovuto togliere i calzini perchè qua stamattina fa freschino quindi sono in felpa i calzini si i calzini fa freschino fa freschino e qua no qua no ci sono a malapena una quarantina di grani niente di chiaro allora per capire le temperature che ci sono qua non dovete guardare mio fratello perchè lui c'ha un abitato tutto suo in casa sua quindi si lo so c'ha un frigorifero per casa me l'hai spiegato cazza piatta la mia niente c'era neone in giro bravo era in difficoltà dovevo correre ma l'ha ucciso bravo eh vabbè ma io comunque ero vicino a te per difenderti va bene grazie mi apprezzato arrivo allora ne ho un culo si l'altro è sotto eh dove non lo vedo ma lo trovo dietro a qualche angolo sono sicuro niente eh spera che l'angolo devi sperare che l'angolo non sia 90 però eh ahia oh soldi eh non c'abbiamo uno andiamo su lodi 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 ho lanciato lodi no 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 ma dove cazzo sta questo ho lanciato lodi è sotto è sotto è sotto oh e qua sopra veneme a toccare ci sono io cuoricino ci sono io chi cazzo è che sta lanciando petardi? e che si? eeeh buon anno ciao tanti culi eeeh andiamo parkour 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 lasciamo i soldi lascio i soldi quello shop fate un wav e andiamo su prison Mi hanno mirato qua da destra ragazzi, occhio a crossare A terra, a terra, a terra, pusha, pusha sopra, GG Tutto tuo, nella stanzettina, bravo, GG Mi serve una piastra, mi serve una piastra Quando fai così mi fai bagnare tutto, GG Qua davanti a noi Grazie, Neon Pushiamo questa casetta qua, raga Vieni, vieni, Neon, vieni, vieni, pushiamo da qua Allora, vieni qua, vieni qua GG, Neon, c'è un altro Sì, vieni, vieni What? Uno scende quel, 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 qua All qua, mi sono spiegato Sì, sì, quel qua Quella Sì, sì, quel lì Vieni, piastra per favore Vi voglio bene Vieni qua Ah, ok, ce l'ha Grazie Molto carini Vabbè che le potevo comprare, volete che le compro? Oh, no Mi sa che è sopra, è sopra, 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 sopra Sopra casa qua davanti Permesso, così Ma che fa il mio personaggio? Ma che fa il mio personaggio? Perché avrò il po' la cabina? Raga, ce n'è uno, ce n'è uno sotto prison, eh Eccolo, vero, vero, è morto, è morto 3, 2, 1 Oh, guarda uno che crossa La Raga, ha fatto il mio personaggio L'ho dato su prison Atterrato No, non prendiamo prison Grazie C'è gente dietro di noi, era Verso... come si chiama il porticuolo lì? Road out, qua sotto, qua sotto Sono qua a bordo safe, ragazzi Al nostro, tipo Ah, l'ho visto, l'ho visto Stai ragione L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto Sono entrati Uno sul tetto Uno al piano sotto al tetto Mi sparano Un atterrato, uno è qua davanti nella stanzetta Arrivo Tetto piccolo Oh, ha crossato Merda, non ho punizioni Sul tetto Sopra di me Eh, me lo dallo, 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 ragazzi Morto Che collo vi faccio, eh? Che collo Mi dovevo prendere qualche merito Non ce li ho mai, me li dovevo trovare Allora, allora Questa è mia Questa è mia, questa è mia Io sto, io c'ho ancora perita da Che non capisco il perché Vi lascio i soldi Se volete fare Eeeh, controlla che tu non abbia niente in download di qualsiasi cosa Volete riprendo a B? Non c'ho, non c'ho Sì, sì, spara a me a UAB Sì, prendilo, prendilo Subito, subito Vieni, vieni C'è gente sopra di noi C'è un massimo allerta qui se volete L'abbiamo, ok, ce l'abbiamo Comunque c'è gente sopra di noi ma non ce l'ha pingata Io voglio dire che c'è un fantasma Sì, andiamo a prendere il tetto Pinteriamo Ah, ecco, infatti Guarda quanta gente c'è laggiù Da quasi Aspetta, bravo Io ti dite Lascio i soldi qua all'altro shop Lo lascio portato Grazie perché molto ce l'avore Nessuno, ce l'abbiamo tutti Che culo, meno mano Che allora Prendo un altro UAB O se mi date i soldi faccio un altro C'ho il carrello, eh, c'ho il carrello Qua sopra sta, lo so Dove sta, bravo, sul boccione sta Che cosa? Ah, no, ho visto che ti stai No, no, ho lanciato io un elicottero Oh, no, ho lanciato io un elicottero Oh, no, ho lanciato io un elicottero Oddio Vai per un UAB Ehi, per un bombarda Neon, fai tu Come preferisci, fai anche un UAB Eh, sì, vai, perfetto Spam UAB Vai, vai di triplo, vai di triplo Raga, prendiamo qua sotto Andiamo qua sotto Andiamo a pushar Sì, sì, qua sotto dove sono in due Ha tirato uno Un falco, pellegrino A mezzo un mare Porco addio No Raga, raga, raga Credo, sai, come ha fatto? Figa, però Ma con le Mb7 Ma l'ho catturato in una maniera incredibile sto qui Figa Uh, voglio provare questo Come si ispeziona l'arma? È l'H4 È l'H4 Eh, come si ispeziona l'arma? Oddio Sei da PC, non lo so Vabbè Vabbè, lo scoprirò prima un po' Che facciamo? Dove andiamo? Non lo so, aspettiamo un attimo Intanto vedo ripetere le armi Ehi, Orazio Dove andiamo? Sì, ci sono parte ORAZIO Con la cazza Corazza per dopo, eh No, pure Torel Buongiorno Ma quanto siete brutti No, è bello, volevo dire C'era Mario pure Allora Datemi un attimo Copritemi un secondo No, no, sono qua fermo Sono qua fermo Sono qua fermo C'è gente a chimica là? A chimica, al sicuro Tutti là stanno Io direi di approfittare adesso Perché stanno fai dando O aspettare a vedere la safe flow Per chiudere Uno viene verso di noi No, arrivo scusate Stavo ispezionando l'arma che mi fa ballare C'è un così Craccato quello là? Non ci credo Non ci credo Raga, raga Raga, rimanete lì così Rimanete lì così Vado un attimo qua sopra io Giocate safe Ok Io devo provare Eh, devo provare sta cosa qua io Che stai provando? Eh, sto andando dietro di loro Ah, li stai flaccando? Yes, sir Vedi, perché loro adesso devono chiudere là sotto Io ho la maschera Bravo, Cini Cos'era, quello sul tetto? Uno mi ha visto Sì, quello sul tetto, sì C'è uno nel tetto, ho detto Qua, qua, qua Sì, l'ho visto, l'ho visto Tranquille, tranquille, ragazzi Ci abbiamo tutto il tempo Mi levate i ping che almeno ci vedo A terra uno? GG, GG Uno sul tetto Oh, il camion Il camion, è arrivato il camion corazzato qui da noi Non scesi Raga, raga, sono due E dentro, dentro, dentro Manca Non dovevi andar via Audio, 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 audio No, mi sto Dietro, Andrea Arriva, la via Nooo Che cazzate ho fatto Cosa aveva ucciso? Il bombardamento Guarda Vaffanculo Allora Allora Forza andava bene Forza Ma Gli aveva pulciato quelli col camion? Eh sì Ah, due o tre Due o tre Mi sa Io ho il tempo di Di mollare quelli Porco Gio mi hanno messo a terra Adesso Era già finito tutto È stato così atroce Allora Mi faccio due tiri Arrivo subito Se mi sai che gioco meglio Può essere Allora Vediamo un attimo GG Sono Su Luca Eh Luca Ci illudo Luca Mi è scappato il joystick Mi è scappato Mi è scappellato No no Adesso si dice così È scappato il joystick Non viene lanciato Viene scappato Arrivo Hihihi Ce xiu Gio � Oh madonna, iniziamo già bene con uno col mitraglione Dimmi, che difficoltà c'è nell'usare un'arma così? E c'è un tizio col Panzerfaust che sta camperando, non ha capito In riscaldamento Beh ormai è normale camperare anche in prerobbino Ma già l'ho avuto Dorel, avevo la build quella dove ho messo il pelle in fondo, dove ho il car di Vanguard Donde 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 Control Certo Faccio vedere quanto sono superiore Sempre controllo Ah Ritorno Indica un punto di lancio per il che Tutti nella zona sicurante Cini Cini Sopratti vede per far rientrare i compagni ultimi Sono ancora tornato? Ci sono full team lì Iiiiiiii 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 Non ci credo Nooo C'è un tizio C'è un tizio Ahahahah Minchia ma facevano cagare questi ma che cazzo ho visto Ahahahah Ero sdraiato davanti a loro sparari Oh madonna Vai a cacare C'ho fatto io E' tutti buoni con l'arma Raffanculo va C'è un tizio 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 Ero sdraiato Segnalami tutto c'è un tizio 900 danni Zio al chilo Meno male Meno male Meno male Mnaggia Perfetto Perfetto Stammaro Oh cazzo Oh cazzo No Sì, ma spero che vi cacchiate addosso. E' stato un bello gizzo. Ma lei pesce da un uomo, la faccio in Z2. Allora, neon dove stai, qua arrivo. Allora, vediamo se tu sei più... Vediamo se tu sei più affinabile dei miei amici di questi altri due. Andiamo, vediamo. Perché io fino ad adesso ho seguito loro e ho fatto una brutta fine. Basta. Non mi piacciono queste due le mie. Né Gigi né Brambi. Discostiamoci. Ma che faccio io? Allora. Niente, sono venuti qua da noi. Andiamo sotto. Oh no, c'è gente, ma che fine faremo? Non lo so. Allora. No, non possiamo farci altro. No! Cos'era questo topolino? No! Mi starò simpatico come va. Eh sì, eh. La simpatia è tutta. Ci penso io ragazzi. Venite su qua. Vi proteggo. Questa è l'aura magica. Niente Gigi va fa pure. Niente sulla lava. C'è Brambo da solo ragazzi. Andiamo da Brambo. Veloci. No. Tengo uno loadout. Lo sei schifoso guarda. Devi morire male. Devi morire. Nooo. 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 Guardalo. Ma che schifoso. Figa. C'è uno sul tetto. C'è uno sul tetto. O due forse. Due sono da... Mi saprà. C'è uno sul tetto. C'è uno sul tetto. Eh così impari. Camper. Guarda mi stava proprio... Mi stava proprio camperando lì. C'è. Sì sì. Ma lo so. Ciao. Vi saluta... Vi saluta Dorel. Che va a lavorare. Vai Dorel. Non dare confidenza per chi parlano in modo strano. Non dare confidenza. Subito aggressivi poi. Subito aggressivi poi. Io non capisco perché. Buon lavoro. Buona giornata. Ah eh. Parla l'italiano. Ah eh eh. Adesso si ripete. Niente. Loot out ragazzi è inaccessibile. Gente lui e lui voi. Scenda al load out nostro. Ah ma c'è al load out anche di là. Mi voglio bene ragazzi. Ci sono io cinesi. Ok. sei ancora più da solo io non ho altri mi sono di piazza però ho piastro allora uno si sposta qua e uno sta allo shop dentro al gazz morto uno uno è davanti a me ottimo me li ha pingati gli altri mi servono i geni d'assalto sono qui l'ho sentito l'ho sentito ma che fa questo ho la cassa muni ah ce l'abbiamo ok perfetto no no ho avuto con me l'impressione hai messo giù una clamor perché allora grazie avete piazza per favore almeno uno si io ne ho uno no tieni g vabbè grazie non volevo no perfetto uno mi serviva passi no no non passi no no non passi passi non sembrano amichevoli vuoi pushare chemical? ma si dai quando cazzo sta questo ah qua c'è il palloncino no si infatti io mi cerco prendo il palloncino io raga son qua e io prendo il palloncino va bene va bene prova il palloncino superata dio caro voi il vostro palloncino di merda son camperati figa come le figa c'hai guarda sei vergine chiaramente sei che armi stai usando rubate per terra uno è il mio è il mio swiss l'altro è un'arma del cazzo che ho preso è giù nella cella quella qua davanti a te gg a destra qua a destra cinisa guarda figa ratto schifoso è nella stanzetta a sinistra mi prego uccidetelo perché merita soltanto dio caro di essere preso a craniate sui denti uno così madonna io sto laggando in una maniera incredibile c'è brutto tempo da voi no c'è un po' di è da me si ma e tu ho il questo l'MP40 no ok è mio allora l'MP40 è il mio ah ok chi si è preso il mio swiss chi è il bastardo che si è preso il mio swiss vieni qua oh qualche straccio ridatemi il mio swiss oh sei tu ridami il mio swiss no no ridami il mio swiss è il mio swiss con i fiori dieni qua guarda che ho preso guarda che ho preso non mi corrompi così ti ho lasciato questo ne possiamo parlare cos'è ma vaffanculo l'R9 figa l'R9 per te per te via il cazzo operazione chi mappamento in corso via operazione cacca molle aiuto aiuto via cacca spruzzo no si proprio così si quanto scureggio pesa c'è uno sopra raga salvo sono morto si vaffanculo da dietro dallo shop dallo shop dallo shop dallo shop gg neon culo su di me su di me camper di merda ce n'è un altro figa si comunque ragazzi stanno camperando ciao bu io sono safe ragazzi arrivo sul tetto sul tetto ti sta mirando gg ma chi cazzo è ma si ma sono dei camper di un bel io 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 non ho parole io pure niente parole solo parolacce solo parolacce lo ammetto 1400 di danno figa uno al kill 900 stiamo giocando in un casino sparai qua e questi sono in due però allora temerario no cazzo il telefonino si spegne come fai ad avere il cellulare scarico a mezzogiorno a mezzogiorno che è un'altra persona c'è chi si dimentica di metterlo in carica che brutta persona cos'è successo? chi ha fatto gol no guardavo la giocata di pala con ecco 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 ho già visto a parte il fatto tag clan scudo e fucil a pompa automatico ok bene con la scritta con la scritta faiz ed è italiano ecco no hai sempre un problema per ogni problema ogni problema per ogni evoluzione c'hai proprio sempre un problema anche se hai un problema c'è pur sempre un altro problema si pure che non c'è un problema poi con la nostra sbadataggine lo creiamo un problema ma risolviamo anche quello non è un problema ma io non capisco perché devi svelare a tutti i trucchi del mestiere cioè è il segreto di famiglia cinisa cazzo l'ha svelato ormai era il segreto eh cinisa mi sa che ti ti devono fare un'esecuzione esecuzione attenzione via taglio del ciuffo ma io non ci credo che ho preso un palo vendetta vera non finirò in galera fritta tutto sto pane dove pensi di andare trottolino curioso ecco l'ha colta lui sto arrivando amici no corri Brambo no eh parla a questo oh sparano da sopra ma che cazzo io sul tetto sono safe eh il problema è che sotto il tetto c'è gente ah ok allora sul tetto non c'è nessuno nel sotto tetto c'è qualcuno li sento uno arrivo io cini voglio vedere qua sopra non c'è nessuno il tetto è libero tutti qui sotto stanno attenzione arriva uno col paracaute più di uno che cazzo sono come cazzo hai visto i nevalarmi purtroppo uno alla scala porca miseria l'agia c'è una miraglietta che sono morto eh taglione così molto aggressivo erano no manna una piastra voleva volendo qui guarda non andiamo solo dal piccolo che hanno visto andare su uno prima ok aspetta arrivo Pulito Sotto, sotto me li pinga Eh vabbè è figa ma c'era un altro Che camper di merda Ho dato la mano Se di me raga ma venite a darmi una porco schifo di mano Mamma mia questo Mamma mia questo Corri Gigi Andiamo da un'altra parte che dite C'è un neon C'è un bacino Ma no 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 la safe la safe la safe Prendi prendi la cassa cinisa Vado alla prossima io Ma è lì ma com'è Ok Faccio tutto io Faccio tutto io Lo d'auto lo d'auto Corri Gigi Corri da corre Corri da prendere Marco Marco Ma zona Sicurata Faccio di equipaggiamento per voi Si sparano Non ci credo ma come Che io crack e basta Il crack fa male C'è io sparano Se ne è droppato uno alla nostra destra Dove c'è l'altro loadout Cinisa Ma dove cazzo mi sparano Dovunque Da decon Pure dal camion Sì Due team In mezzo a te Sì Tieni un team che ti push E' arrivato Un secondo Ratto di merda Questo è forte Questo è forte Questo che ti ha ucciso Bravo Bravo Ho visto un movimento stranissimo Che non avevo mai visto Che lobby porco mondo Uno slide in caduta Pulitissimo L'ha fatto Mamma mia Quella è tua No Spara C'è un altro Un altro Nella porta sinistra Abbiamo perso Gigi Nel frattempo Né un No Né questo Dai ragazzi Però non è possibile Puga Sono tutti campelati Non è possibile Cioè non possono giocare così La gente non può giocare così Non può giocare così Non è possibile Non puoi E' qualcosa di schifoso Giocare così Non è Non è fattibile Non è fattibile Giocare così Come fa? Che gusto c'è? Bersaglio in vista L'hai visto bra? Cosa ho visto? Ce n'è uno qui Quello? Si Grazie L'armi si l'hanno venduta Uomo morto che cammina Uomo morto che cammina Ragazzi possiamo fare lo dot eh Dove è stata? Nemico in arrivo nel mare Allo dot Perfetto Ah Con 18 Non ha preso l'arma È La fiuma La fiuma? Ci sento Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Quattro L'ましょう Anche20 Non l'ho compreso Oh na sta scendendo uno Ma chi è? Ma da dove mi sta sparando sto cazzo di dardi? Ti ho detto che ci sono i dardi di sto cazzo, non mi creda Eh sì, me ne è arrivato uno in faccia, me ne sono accorto quando era impiantato nel mio cranio Ne è sceso uno accanto a te Cinisa Due Speriamo pure da dietro, è il team Prego prego, eravamo io e Gigi E facciamo assist, chiamami Hangal di Maria Chiamami Hangal Hangal No no, Monezziani Vieni, vieni, vieni Monezziani, non c'è un cazzo Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho a posto, non sono io quello È neon a casa Io sì, sono Sotto di noi c'è gente Posso dire che mi hai rotto il cazzo C'è un altro Raga, uccidiamolo Ce ne arriva un altro Cinisa Scappa Ammazza le tutte Cinisa Arrivano, arrivano, penso gli alci No, gli morono più alci, è proprio zero Non ci credo No, qua c'è una sacca No Dai, giochiamo come inabila Prendiamo questi traioni qua del cazzo Sessanta colpi in un caricatore Niente dignità Davvero Buongiorno Sì, sì, proprio zero Sopra, sopra, sopra Sopra, sopra, sopra di me Sì, dietro Dove stavamo prima Ho visto? È uscito, è uscito Uno è craccato, eccolo È salito sul tetto, è salito sul tetto Io sto dall'altro lato e le aspetto se gira Dai, scendi sotto No, due, due sono, due sono Grande, bravo GG, bravissimo Restatemi, vi prego Aspetta, aspetta, aspetta Merda E io ho visto i cazzi Grazie Scendo sul tetto Per riprendermi le armi Puoi venire qua da me se vuoi Qua da me No, qua è sceso questo È a terra E su Decon Su Bio Stava sul tetto Quello delle fiume Dov'è la porta qua? Mi ha paura Oh Mi sono ritrovato un tizio in bocca Eh, sono male E dove? Niente, niente Non ho detto niente io Sopra stava da lì, bravo, sì Eh, c'hanno uno qua sotto la porticina Sentiti Bravo, non uscire Non esco Non esco Prendiamo un hub Chi ha i soldi? Neon, dammi i soldi che vado a prendere l'hub Ok, scusa Ma pure un resto, dico Ma così, dico, ragazzi Se volevate, ma Entrati da sotto Sono entrati sotto, raga Ne ho visto? Grazie, va bene, lascia lì sotto Peccato, quanto avevo voluto così lo prendi Fatto che è quello? C'è uno con il pump out? Non facciamo nulla, ok? Noi stiamo buoni, carini e coccolosi Io non ho piastre però Dammi, dammi sti soldini Ah beh, ormai è un po' tardi No, 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 aspetta Due contro due siete Aspetta, aspetta Faccio così C'è uno a destra, mi sa, ho visto Non scendere anche te Figa se perdevamo così, neon Mi spiace, mi spiace, mi spiace, mi spiace Ragazzi, non ci si può fare nulla Guarda che quello lì con scritta Fades è arrivato ultimo E ci godo un sacco perché era quello con scudo e fucile a pompa Godo, godo Spero, sai cosa? Spero siete morti all'inizio e vi sia buggata la lobby Così vi siete aspettati tutto l'intero game Mamma mia Troppo cattivo? No Giusto così E grazie anche a Gigi per il sostegno morale Gigi Gigi Il lavoro del gregario Nicole, buongiorno Servono anche i gregari Grazie per il like Bene No, raga, io devo Io devo staccare Ah, vabbè, mi toccherà invitare qualcuno di Lui Neon, stai andando? Abbiamo aperto Io ragazzi vado a pranzo Vado a pranzo Ciao ciao, buon pranzo Ciao 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 Prova a invitare Marius Zubbido Come andiamo in caldo Arrivo zubbido Mamma mia Mamma mia Ma dici che sta giocando Dici che sta giocando Allora, vediamo un po' Mentogna Eh, guarda se Vabbè, vabbè, vabbè Vado un attimo in live Vado a vedere se c'è Se è con gente Lo stavo vedendo un attimo Non è in live Ma non è in live Boh Mi chiamo Marius Siamo tre Ti vuoi invitare? Brambus Eh, non lo so Adesso vediamo un attimo Se risponde In arrivo il 20 ottobre 20 ottobre Un mese Un mese E c'è la campagna In accesso anticipato Dei code Buono Sarà quella cosa Sarà quello su cui mi butterò Principalmente Mi sa Giocarmi la campagna E via Eeeh Oh, scusate Non lo so Non mi sa che È possibile che sia in partita Con qualcuno Prima c'era il cartello di paia Ma Mi sa che ha chiuso Anche lui Sì Infatti io lo sto venendo C'è un raggio Ma Spendi Eh, beh Sono un attimo Faccio un filo veloce Abbiamo il pista Poi che abbiamo? Che abbiamo? Oh, bravo Oh, sei da solo? Oh Con un po' di azito ragazzi Ah, va bene Tranquillo Che io ero con cinese Dai, se vuoi Noi intanto facciamo una partita Poi se vuoi venire Ti invitiamo, ok? Va bene Va bene Va bene Ok Così almeno Ok Facciamo una E poi invitiamo A colpirla Ma è fatto? Anche perché io Non so quanto è ancora Ne faccio Sì, infatti Io pure Uno o due altro Perché poi Stiamo invitati a pranzo Stiamo invitati a pranzo Brambo I pranzi nostri Ce li hai presente? Me l'ha detto Hai capito? Più e meno Mamma mia Comunque è venuto carico Poi all'inizio Ho visto prima Seconda mangiata Ho detto Guarda Per me va bene Tutto Ma voi qua State bene Con la destra Non mi sembra Una cosa che prometta Tanto bene Comunque giù da voi Se si faceva Un mese con noi Penso La regina di chili L'aveva presi sicuro Il problema di tutti È tornato col pancione Mamma mia Mamma mia Però Dice mai che si mangia bene Prima o poi Non vieni pure tu Prima o poi Prima o poi Come minimo Io non verrei volentieri Mi piacerebbe venire Cioè ma davvero Abbiamo ospitato il peggiore Gigi Che non è Il migliore In effetti La prendo su personale Questa Questa mi è sapotata Rufianata Proprio Rufianata Vabbè comunque Se vieni Porta anche tuo fratello No dai Se vengo Porto mio fratello Ma uffa No porta uno Perché ce n'ha due Gigi occhio Porto l'altro Non so che è peggio Non l'ho ancora Non sapete benissimo Quale è il peggiore Il cinisa Io Sì Sempre Arrivo subito Mi faccio due tiri Permesso Va a giocare a calcio Che bravo Si tiene in forma Gigi occhio Ma hanno tolto il corpo a corpo con il coltello Che cosa Hanno tolto il corpo a corpo con il coltello Non ti esattirà Sì Prima se avevi il coltello da lancio Se facevi il corpo a corpo Tirava la coltellata Faceva più danno Cioè tipo due colpi Che uccidevi Mi sa che Sì Mi sa che l'hanno tolta Effettivamente era un po' troppo Ritorno Indica un punto di lancio Per il tiro Andiamo Vai Alla tende è scesa la gente Sicuro? Si Che coglioni sta qua Abbiamo all'odd Ha sciuto i soldi In me Scansione 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 Ah tre siamo Stiamo vicini Che siamo tre Ho paura Siamo tre porcellini Arriva Allora No No Forza 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 Proviamo questa build Stupida Allora Io salesco All'inizio All'inizio Andiamo a prendere Prima le casette Che dita Va bene Addirittura Parciate Sì Sì Passaglio Ah no no Piscano Allora Allora O worldwide Oh Jasmine Č wcześniej Č Verso Č 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 non l'ha ben capito ma credo ci sia uno sopra di me supera il tetto di torre si si ancora lì ancora lì gg aspetta aspetta ti faccio una roba è crackato raga però dovete darmi una mano mi sta pushando l'altro è bloccato lì su questo cazzo di tetto sopra di voi sono confuso con gg scappa gg ma sono sconfuso un secondo oh quello è un nemico no ma poi che carino questo gioco quando ti fa startare in tre lo provo a invitare al quarto no ma ci sono i terzetti eh eh ho provato a invitarlo adesso vediamo se arriva ah quindi questo terzetti era fai uno squillo rompigli anche tu i coglioni a a chi a chi a chi a chi a marius vabbè ma sta giovan... vabbè non c'è con la palla si si rompiti la palla no volevo dire per essere sincero allora cosa dove ci tocca chi ci tocca viene o no non viene cinesia cinesia? si non viene non viene ok vabbè giochiamo giochiamo a posto cos'è? che re sono? ok quindi carceri una mezza retta si c'è ancora vai cagliarder mud mud no e l'altro giorno se ne va la corrente a casa e si spegne tutto no pc gioco tutto tutto educatamente e l'altro giorno se ne va la corrente a casa e si spegne tutto no pc gioco tutto tutto educatamente e gioco subito mi faccio due partite la mattina dopo gioco dico ma non mi trovo ma che cavolo eh mi aveva cambiato tutto sensibilità tutto nooo ripartire da capo dover sistemare tutto 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 è giocato al contrario di come gioco sempre hai giocato meglio quindi mamma mia forse ho giocato meglio davvero mica non c'era tanta differenza e mi è andata in area allora gg fronti a parte che lag hai di brutto va arrivando un nemico, attenzione in alto eh foghino, finisco questo e arrivo, ma non mi inviti mai, ma se t'ho invitato anche l'altro giorno, brutto pirla, t'ho invitato ma non mai nemmeno cagato, brutto infamico, facciamo questo e ci aspetti Mario, intanto moriamo subito perché mi confido nelle mie capacità, ah almeno tu nelle tue, pensavo nelle nostre, ah no, io confido in Gigi, Gigi tag, Gigi ci porterà la vittoria, Gigi ci porterà la vittoria, ieri quando era mutato abbiamo iniziato a chiamarlo Gigi tag, ah la, andiamo sto tetto e accumulate punti perché tornino più in fretta ma è appena iniziata la partita e niente mi devo sdraver ah ok ce l'hai già c'è già tutti i soldi necessari come siamo solo noi ogni tanto ci succede andiamo a letto la mattina e presto ci svegliamo col mal di testa siamo soli è partito è partito è partito l'abbiamo l'abbiamo perso mi lascio qua i soldi facciamo un hobby saliamo 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 lascio i soldi prendo una cazzamoni tutto è giurassato passamoni non c'è brambo andiamo andiamo apriamo la cazzamoni quando c'è brambo si sono subito scappato io brambo non corre scusi scusi non volevo come se non bastasse sono da solo e in più sono tracciato usciamo la qualcuno aveva le munigioni dove stiamo si andiamo siamo qua davanti oh no 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 c'è un nemico lo vedo no arrivo brambo esplodi imbecille ma mi ha detto esplodi mi ha detto dell'imbecille è entrato dentro ma a me non mi dici imbecille comunque è maleducato gigi dag è diventato gigi rossi mi ha detto il vis del kill e ma non so penso di una cosa del genere comunque li voglio bene anch'io qualcosa ti ha chiamato e non era carino diciamo questo sbacchiatresi buongiorno noi li vogliamo sempre bene ecco questa faccia di merda oh qualcuno mi ha mirato là sotto che cazzo ho appena visto lì perché ho visto un luccichio oh stanno a fai danno arriva uno risceso uno sul tetto ci sono siamo alla polizia raga non è che non ci siamo ma c'è ma chi dove stai g qua povero è salito uno dalla corda dietro scappa gg osmo osmosi nooo non ci credo un colpo mi manca ma ci sono sono morto uno sono due sono due sono due sono due sono due sono due perca bestia ma perché ci provo cioè io insisto nel provarci vabbè ma sto sostegno morale continua comunque mamma mia che schifo ho fatto oh oh ma perché hai ricaricato ma c'ho 40 colpi che cazzo ricarichi porco dio ma ti pare normale sono lì che sto sparando inizio a sparare ricarica c'è 40 colpi anche per aprire il culo da bocciare salvo il grab fa cagare buongiorno salvo buongiorno 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 tutto il giorno come stiamo stanco sono stanco sono stanco ma non fa un cazzo questo sentilo va che peccato ho dovuto andare al mare sentilo va al mare affoga affogato è stato maltrattato abbastanza no 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 possiamo fare di più possiamo fare molto di più cioè senti quello lì che dice oh è stato al mare è poverino è stato al mare sto struzzo ma sentite ma guarda che le ferie è stanca è una cosa risaputa riconosciuta in tutto il mondo ahah ma gg abbiamo perso beh lui con la playstation avrà i suoi tempi cosa sto sentendo hai visto? è entrato giusto è giusto quasi 30 secondi dopo mamma mia oh madonna che non è una vita sociale ma no 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 abbiamo un po' ma si ma parta via i multi player vediamo cosa hai preparato allora oh jam il war l'ho fatto in due settimane tutto diamante mamma mia e dimmi un po' hai avuto una vita sociale in quelle due settimane? ovvio ci vogliono le mani per tutto ricordo ah vabbè hai fatto hai fatto quella lì come si chiama shipment tutto il tempo bravo ah veterano ti metti là con colpi alla testa e li fai ma sono diamante damasco no vabbè damasco hai visto hai visto invece la skin dopo diamasco lì la ultra quella che sembra una caramellina si si una volta una volta andiamo a contro dai dai si si secondo me è possibile siamo hanno fuciuto la piaccia animali se il 56 non muore c'è un altro cinisa è sceso ce l'abbiamo c'è un altro chiama qualcuno non ho colpi non c'è un cazzo non piace grazie mi segue mi segue mi segue scattato hanno l'oddy uno è qua morto è scarso è scarso ce l'avete ce l'avete non so come abbia fatto a missarmi qua giorgio grazie per laic dove stavamo prima c'ho 1500 danni bisogno di una piastra ho bisogno di un pacemaker ci sono ci sono tutto a posto su di me sono due team due team no pugni un colpo no i pugni no ci con la miglaglietta puntata in faccia mannaggia stiamo 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 aiuto per armi qualcuno che mi hanno ripulito bello amore mio come sei venuto mua scusa è venuto è venuto è venuto scivolando l'agio sparato in sulle musiche vedo ci vediamo è venuto però si lo ci è venuto can dai io non lo prendo che sto bene a far tutto no per i perc dove andiamo? prison qui ci sono munizioni se volete e prison sia oh uno è scelto qua davanti non è morto intrasubito di me di qui su di me ragazzi io devo staccare vieni faccio ancora una poi stacco va aspetta andiamo facciamo l'ultima va bene l'ultima mamma mia io te l'ho detto te l'ho anche scritto no ti chiedo scusa sto invitato ma giusto per oggi hai letto il messaggio che ti ho scritto guarda che facciamo una mezz'oretta allora che cazzo lo compri a fare il telefono se non lo guardi per i porno per i porno lo usa il telefono vabbè poi è ora di pranzare anzi devo cucinare probabilmente io sono bravo a cucinare ti preparo le patatine fritte surgelate buonissime te lo dico per i porno meglio ipad eh sì vabbè meglio anche il 75 pollici sì già nel senso no no più piccolo è meglio è quello che dice le donne marius qualità e te chi ha detto te dove noi ne abbiamo detto te però l'argomento c'entrava dai siamo lì no scusate scusate ragazzi scusate non abbiamo mal capito scusate scusate hai continuato hai continuato una conversazione che non c'era tette chi ha detto tette tette ma perché tette di prison mamma mia la cattiveria di quest'uomo si sgaggia l'ultimo fotteva ma li fanno il culo lo stesso eh da pepe ci morivo io e ho i baciti e quello non ti tipo il telefono che putz è un po' che putz è un po' che putz è un po' ma viene bicho ascoltato il infarti giù non inarrago Perchè? Perchè? Arrivò! Di me? Uno a piano d'era, una a piano d'era A verchè E perchè, perchè, perchè Ecco, un chat è partito il... Tette? Tette, chi è tette? Ma perchè sti bombardamenti così ignobili? Ecco, piano d'era, uno qua Tutto Bas Ma perchè? Passa piastra Allora Dove state? Tu è sotto testo Il viola GG1 di push-up Ok Si, ti piaceva Guardamento fallito Era, comunque, una perdita che... Potevamo, senza Analogico sinistra E muoversi come un boss, ti giuro Allora 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 Non riesco a correre, cammino Allora 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 Ah Eh, vado a fare il lodi Se riesco ad arrivare fino a là Nooo Trisano, trisano, entrare nel tunnel Ok, ho già fatto il lodi qua Notri Resta Tieni Vicchi aperti Ah Chi ti proprio È sceso uno Pianneggio, tu a uscire i sandali Allo È dove? Dove sono morto io, c'è uno L'ho visto? È uno sta dietro al muretto di fronte Vi stanno vicendo Arrivano da direzione controllo Salgono pure uno con la brigione Via Cinisa scappa proprio Nooo Sono in la merda ormai Allora Scappa via Niente Mi stavano proprio Marius ti spiace Grazie Bene bene Scusami Mannaggia Sono scesi tutti Scusami Scusami Continuando Chiarati Inferibili Mamma mia D'avvio Stiviamo queste Ce la vediamo Sento C'ho una cassa munizione La cassa devo aprire Qua dentro Arriva gente è rotto è rotto su di me su di me non ha vita chi? dove stai? qua mi hanno fatto apposto dai ci sono nato io va bene è stato pesante è difficile c'è stanca e sono in due lì col mitraglioni a camperare il nostro lodi madonna ci dobbiamo scendere più qua la situazione è complicata quello d'auto tirato il culo di brambo scende si trova giubbino è un fucile è buono wow ho trovato un vargo senza mirino un vargo bianco che non credevo nemmeno esistesse io guarda io invece tu almeno trovi un vargo io trovo un pezzo di bravo gigi gigi è un pezzo di gigi non voglio sapere che pezzo hai trovato di gigi però vabbè c'è gente da me mannaggia tutti li sandali ho muffiato ma tutti i miei mi sei dovuto proprio mario il suoi corritori chiesti del bagno sta che è successo? grande mario demolito qualcuno arriva ho colpito qualcuno c'è qualcuno qui oh sono ancora lì camperati incredibile sì allo d'auto davanti a me davanti a me vabbè non ti piace campera il piffero di gigi il cinese è quello con le armi ok scappa mannaggia tutti gioca di tempo che sto arrivando qua sotto a destra sta bravo sì lì stavo a sinistra sinistra avvia gas avvia gas camper di merda ah no vabbè questo no però comunque il mirino come cazzo mi ha visto eh vabbè vaffanculo mario ce n'è uno dietro arriva 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 eh sì devo andare anch'io tanto tranquilli devo scappare anch'io scusate se ho giocato qua buona giornata ragazzi ciao a tutti 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 ciao a tutti